non so come iniziarlo questo video perché quando parli di questa persona devi essere pacato non ti devi incazzare ma devi parlare seriamente non devi bestemmiare ma devi fare comunque la persona educata diavoli rossoneri si ritorna a parlare di milan sapete che io non amo parlare di nazionale su questo canale non vedete mai video sulla nazionale probabilmente non ne vedrete mai perché io voglio solo e sempre parlare di milan e oggi andiamo a parlare di un argomento di una cosa molto molto interessante di una persona che a noi milanisti sta molto molto a cuore perché è saltato fuori un retroscena interessante e io sono d'accordo su una cosa ma su un'altra secondo me è stata sparata una cazzata colossale e poi andiamo a vedere qualche cosa qualche aggiornamento sul nostro milan ma prima di tutto come sempre cosa bisogna fare che cosa bisogna fare che è completamente gratuito iscrizione al canale mi raccomando qua sotto iscrivetevi al canale lasciate un bel like attivate la campanella come vi dico sempre anche se youtube non vi manda comunque la notifica ma voi fate questi tre passaggi fondamentali per aiutarmi a crescere sempre di più perché sono completamente gratuiti mi raccomando almeno 100 120 like in questo video forza sfondiamo il tasto voglio farvi vedere una cosa perché di cosa abbiamo parlato sabato di cosa abbiamo parlato sabato io ho detto non c'è nessuna trattativa non si sta parlando assolutamente di questo giocatore era una mia curiosità ho detto il lil lo mette in vendita perché ha bisogno di fare cassa e magari ci facciamo un pensierino e oggi ieri su tutti i giornali cosa sbuca fuori il milan è in pole position per renato sanchez non so se è vero non so se sarà mai vero però ragazzi la notizia c'è quindi speriamo speriamo tanti mi hanno scritto il problema che è sempre infortunato il problema è anche economico però ragazzi il milan ha buoni rapporti con lil quindi magari magari vedete comunque magic mike mignon arriva dal lil secondo me quei 20 25 milioncini si possono anche spendere vedremo ragazzi come andrà a finire altra notizia in casa milan perché oltre calabria si fa male anche balo tour e quindi perdiamo anche balo tour e non ha giocato in nazionale stiamo a guardare i tempi di recupero ma in casa mila si pensa a un altro rinnovo molto molto importante fino al 2026 stiamo parlando di raffa leao il milan sta mettendo i radar su tutti i rinnovi dei giocatori molto molto importanti per il nostro milan raffa leao è in piena esplosione ormonale lo stiamo vedendo tutti e il milan lo vuole blindare fino al 2026 aumentando probabilmente l'ingaggio da un milione e otto se non mi sbaglio che prenda adesso a tre milioni e mezzo dovrebbe essere una cifra del genere ma andiamo all'argomento del giorno perché in questi giorni è saltata fuori un'intervista fatta a gialluca di marzio e dice una cosa molto interessante che poi conferma quello che noi abbiamo sempre detto in questi mesi cioè lui dice adesso ve la faccio vedere anche in video donnarumma nell'ultima partita con il milan cioè quella bergamo con l'atalanta alla fine piange piange va verso i tifosi piangendo e perché piange lui dice perché sapeva che il milan aveva già acquistato un altro portiere cioè magic mike mignon quindi lui era consapevole che quella era la sua ultima partita e questo afferma quello che abbiamo sempre detto che è stato il milan a non cedere ai loro ricatti è stato il milan a volerlo mandarlo via è stato il milan a pararsi prima che poi succedeva il patatrack quindi tutti quelli che avevano detto e ma avete perso donnarumma 0 no ragazzi no è come abbiamo sempre detto è stato il milan comunque che l'ha lasciato andare perché sappiamo che c'era stata la trattativa in balo il milano offriva 6 milioni loro le volevano molti molti di più il milano non ha ceduto ecco su questo sono molto d'accordo su questo sono molto d'accordo ma quello che mi ha lasciato di stucco quello che non sono assolutamente d'accordo io e quando gialluca di marzio dice se il milan lo aspettava probabilmente se il lunedì dopo la partita con l'atalanta il milano avrebbe chiamato in sede donnarumma avrebbe firmato ma che cazzo stiamo dicendo donnarumma non avrebbe firmato si sta facendo passare si sta lanciando un messaggio molto sbagliato in questa frase perché donnarumma i 6 milioni non avrebbe mai accettati loro ne volevano 9 10 quanti ne volevano molti molti di più e perché un giocatore che da un anno e mezzo viene chiamato in sede per rinnovare il contratto a 6 milioni non accetta e doveva accettarlo il giorno dopo della qualificazione in champions league ma assolutamente no ragazzi no perché il milan si era qualificato in champions league e avrebbe accettato non è così non è così lui non avrebbe comunque firmato ormai la sua testa era a parigi lo sappiamo tutti quindi questa cosa qua io la trovo una cazzata secondo io non sono d'accordo su quello che ha detto di marzo nell'ultima frase perché si sta facendo come vi dicevo si sta lanciando un messaggio sbagliato sembra che il milan non l'ho voluto aspettare lasciandolo andare via non è così lui comunque non avrebbe firmato perché sia lui che raiola si sono messi in testa che volevano 9 10 milioni questa intervista la potete trovare integrale sul canale di carlo pelle gatti e poi comunque online la trovate dappertutto fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto ragazzi si avvicina fiorentina milan io sono sono molto fiducioso perché penso che il milan possa comunque mantenere la vetta non sarà facile con la fiorentina perché la fiorentina è una squadra che gioca bene aveva messo in difficoltà anche la juventus e poi sappiamo come ha vinto la juventus però aveva messo in difficoltà anche la juventus secondo me la fiorentina è una squadra che gioca bene in questo momento calcio sta bene l'ha dimostrato come vi dicevo con la juve paura di nessuno non so non penso che ci sarà davidino calabria vediamo ballo tour e però ragazzi paura di nessuno sempre forza diavolo iscrizione al canale e questo settimana ritorniamo forti a parlare di milan non vedevo l'ora ragazzi non vedevo l'ora perché tanto su questo canale della nazionale comunque vada non parlerò mai